LUKE 4316 Registro con Camtasia ma Minecraft mi lagga O se no registro con Fraps ma mi fa tanti spezzoni e non riesco a montarli e metterli su Youtube Allora per fare a modo mio come faccio io che fanno in tanti Io uso sia Fraps che Camtasia Per cui non registro con Camtasia Ossia adesso sto registrando con Camtasia Però solo quando faccio video tutorial non quando gioco a Minecraft Perché Minecraft a me mi lagga Per cui Minecraft lo registro con Fraps Allora le impostazioni di Fraps Questa è la finestra di appunto Fraps che l'avrete già scaricato Io ho la versione 3.2.9 la versione vecchia Però mi funziona benissimo quando ho tempo la giorno Allora le impostazioni nella prima pagina in general Guardate le mie Io ragazzi le ho lasciate così dovrebbero essere quelle di default Perché a me funziona perfettamente Per cui non vado neanche a perdere tempo a studiarmi a cosa vogliono dire queste cose Per cui lo lascio così con solo il secondo spuntato Nella pagina FPS Abbiamo questa immagine Per cui io lascio tutto così Com'è Qua 60 secondi dovrebbe essere tutto quello di default L'unica cosa che potrebbe interessarci è questo pannello qui Che sarebbe per vedere quando Fraps sta registrando Vi faccio vedere Apro un attimo Minecraft Se si muove Sto facendo 850 cose insieme ragazzi scusatemi Ok non so se riuscito a vederlo Così magari si Vedete qua in basso a sinistra ci sono dei numerini gialli Quello vuol dire Quando i numeri sono gialli Vuol dire che Fraps non sta registrando E questi numeri si possono spostare Vedete questa schermata nera O in alto Vedete O in alto a destra O in basso a destra O se no cliccando qua Non ci saranno Però ragazzi io vi consiglio di metterlo Perché io lo metto spesso Perché ho avuto un po' di problemi con Fraps Perché ogni tanto si stoppa da solo O parte da solo la registrazione Per cui ho perso molte cose Per cui vi consiglio di tenerlo Almeno avete sempre sott'occhio Quando sta registrando O quando no Perché tanti mi hanno detto Fraps mi fa tanti spezzoni Ma a volte non mi registra Si ragazzi Perché se voi senza farlo apposta Cliccate il tasto Che voi avete messo di default O avete cambiato Per avviare o stoppare la registrazione Non ve ne accorgete Ma lui si stoppa o parte Per cui questo per quanto riguarda La registrazione Poi andiamo su movie Abbassiamo questo Andiamo su movie E appunto qui Per il tasto di registrazione Di cattura del video Il default Non mi ricordo che tasto è Io l'ho cambiato su L Per cui io so che Quando clicco la L Registro Quando riclicco la L Stoppo A me mi accomodo la L Poi voi fate quello che volete Comunque io ho messo la L Un'altra cosa Gli fps Io lo tengo sempre su 30 Mi trovo bene Qui le spuntiamo Spuntiamo record Win set Sound E stereo E anche il secondo spuntato Le altri no Poi andiamo avanti Su screenshot Se volete fare Delle screenshot Ma a me Sinceramente non servono Per cui ho lasciato Tutto così Di default E questo è quanto riguarda Fraps Ora vi faccio un esempio Prendiamo sempre Il nostro Minecraft Vedete che Non sta registrando Se io ora premo la L Come vedete qua È diventato rosso I numeri sono rossi Per cui vuol dire Che io sto registrando E sto registrando Solo la schermata Di Minecraft Non mi registra Tutto il resto Per cui o la ingrandisco O la rimpicciolisco Lui continua a registrare Minecraft Vedete anche se la apro Lui sta continuando a registrare Anche se la Abbasso ad icona Per cui so che Premendo la L Lo stop Ora Un'altra cosa Che non vi ho fatto vedere È questa Scusatemi Dove Qua Su movie Andate su movie La prima riga È quella Dove mettere Il vostro Il sabotaggio Del vostro video Per cui fate change E mettete la cartella Che volete Per cui io so Che questa è la cartella Dove mette Tutti i miei video Di fraps Guardate ragazzi E ragazzi I video li fa Veramente grossi Vi faccio un esempio Questo è L'episodio 40 Che ho fatto Di Minecraft Più Le due Le tre I tre episodi Di custom map La crazy map Vi faccio vedere Quanto È grosso il video Di tre episodi Per cui vi sto parlando Solamente di tre episodi 85 giga Per cui veramente Li fa Veramente grossi Allora Prendiamo gli ultimi tre Vedete Fraps ha registrato Aspettiamo che si apre Come vedete qua È diventato rosso I numeri sono rossi Per cui vuol dire Che io sto registrando E sto registrando Solo la schermata Di Minecraft Non mi registra Tutto il resto Per cui Questa è la nostra Registrazione Che abbiamo appena fatto Come vedete È già in alta definizione Già si vede bene E Un'altra cosa Come vedete Per un mini video Perché l'ho fatto durare Veramente poco ragazzi Mi ha fatto Tre spezzoni Per cui Come unire Questi tre spezzoni Da mettere su YouTube Apriamo Il nostro Camtasia Per cui Fraps Si può chiudere Non serve più Dopo aver finito il video Apriamo Camtasia Facciamo Import media Andiamo sulla cartella Che Abbiamo scelto Di Dove mettere I nostri video Eccola qua Andiamo a prendere I video A noi interessati Per cui Uno Due E tre Facciamo apri Ed eccoli qua Adesso questi tre spezzoni Noi li prendiamo E li trasciniamo Nella timeline sotto Qui Io di solito Scelgo sempre 1280x720 Di YouTube HD Ok Adesso abbiamo I tre spezzoni Uniti Come vedete Sono uniti Però Un consiglio Adesso questo qua È un mini video Di 20 secondi Va bene Si potrebbe fare Produce Se il video è pronto Produce Produce in share Si fa Share to YouTube Avanti Avanti Vabbè Poi vi chiederai I vostri codici Le vostre cose E ve lo caricherà Direttamente su YouTube Che è la cosa più veloce Però di solito Quando i video Per dire un episodio Di un quarto d'ora Dieci minuti Che superano Veramente Un giga Due giga Non possiamo Rimetterlo Direttamente su YouTube Per cui dovremmo fare HD Avanti Avanti Per cui Questi tre spezzoni Ci farà Un video unico In HD Dopodiché Lo potremo mettere Su YouTube Andiamo su Su YouTube Facciamo il nostro Carica video E lo possiamo mettere Per cui È molto semplice Usare Fraps Ragazzi Secondo me Poi non so Come avete fatto Voi le impostazioni Mi hanno detto In tanti Che Fraps Fa solo Pochi video Cioè Pochi spezzoni E non registra Tutto quello Che voi volete registrare Secondo me Ragazzi Dipende tutto Dal tasto Dal tasto Di cattura Magari Senza farlo apposta Mentre giocate Lo cliccate E non rendendovi conto Che avete stoppato Il video Per cui Provate a cambiarlo Mettete un tasto Che voi di solito Non usate Infatti In Minecraft La L È uno dei tasti Che proprio Non uso Per cui Sono comodissimo E infatti Fraps Lo uso solo Per Minecraft Spero Vi sia stato Utile Che sia stato Chiaro E Basta Direi che è tutto L'unica cosa Che volevo aggiungere Ricordatevi del contest Ragazzi Mancano tre giorni O quattro Sì Tre o quattro giorni E Continuate a mandarmi Il video di risposta E fate girare il video In modo che Tanti In tanti partecipiate Da Luke è tutto Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti